com'è? vai vai in terra è l'ultima fatica fra no non ditelo perché sentivo prima che stringi i denti va di lei bravo puoi prendere un po' di ricorsa che dopo ti do una mano se la fai te? si 5 euro va bene 10 sono veramente un 24 tempi? mai provato diverso l'acceleratore è sempre questo? sempre ho guadagnato una moto ho guadagnato una moto va bene va bene è uno spettacolo da sola ma su da sola è bella bisogna dosare il gas perchè se no salta troppo dai che adesso è tutto in discesa si e vabbè si impara che fa dov'è freg ma è buh nooo nooo ce l'hai ce l'ho ce l'hai eh? dai che è finita dai che è finita ciao 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 che crisi dai dai respiriamo un po' ciao